La polemica viaggia sui social a suon di foto scattate anche a cadenza oraria da alcuni commercianti per dimostrare che il nuovo regime di ZTL pensato per il mese di agosto per il centro storico di Gualdo Tadino non funziona. Dalla primo al 31 del mese infatti è stata stabilita la chiusura delle principali vie di accesso a Piazza Martiri in questo modo. Nei giorni feriali Corso Italia dal Pilomat fino alla piazza è chiuso dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 2 della mattina successiva. Via Storelli dai giardini pubblici fino a Piazza Garibaldi è chiusa dalle 19 alle 2 della mattina. Nei giorni festivi resta invariato l'orario della ZTL in Corso Italia mentre Via Storelli amplia la sua chiusura con orario 10-13-18-2. Non entra in vigore l'ipotesi studiata dalla Giunta di lasciare aperta Via Storelli fino a Piazza Garibaldi diviando poi il traffico su tale piazza e da lì in Via del Pellegrino e Via Casimiri per riallacciarsi a Via Calai con una gincana che è stata ritenuta nella pratica dei fatti troppo complessa. Non condividono questa scelta di chiusura, soprattutto quella mattutina di Corso Italia, alcuni dei commercianti del centro storico, ritenendola una delle cause della desertificazione del corso e della piazza centrale con ricadute negative anche e soprattutto sulle loro attività commerciali già messe alla prova. Va detto che anche l'attività serale del centro storico risulta in sofferenza, si lamentano pochi appuntamenti, almeno fino a questo momento, capaci di attirare pubblico. Agosto tuttavia si candida a stimolare le presenze con alcune date destinate, nelle previsioni del programma The Summer approntato dal Comune e dalle varie associazioni, a fare numeri. Si parte questa sera alle 21.30 in Piazza Mazzini con la finale regionale di Miss Italia, appuntamento canonico che gode del sostegno dell'azienda Rocchetta, sponsor del concorso. Sabato 10 agosto sarà la volta dell'associazione Caleido che propone Gualdomia fatta a cuore, performance e stand di numerose associazioni gualdesi che animeranno la notte di San Lorenzo da Via Storelli a Piazza Massini tra musica e giochi. Il 17 agosto torna il Trofeo Cardinali, primo appuntamento sempre molto seguito dai portaioli delle quattro porte, mentre venerdì 23 agosto sbarca in Piazza Garibaldi l'Ercio Live, lo spettacolo di intrattenimento in collaborazione con Radio Tadino che porta in piazza l'ironia del popolare sito l'ercio.it. Si chiude agosto il 30 con la cena in bianco, l'unconventional dinner in centro che chiama tutti a vestirsi di bianco per una serata dove il dress code è protagonista.